Ciao a tutti! Oggi vogliamo farvi un piccolo vlog per capire come noi Capgirls ci prepariamo al nostro primo live. Oggi suoniamo all'angurria di Giovenale, faremo un concerto acustico, quindi la formazione sarà io alla chitarra acustica e voce principale, mentre Ilenia si occuperà di percussioni e seconde voci. Ilenia oggi porterà l'impianto principale, quindi le casse e il mixer, le spie, che ci serviranno per sentirci mentre suoniamo, mentre io invece mi occuperò di portare tutti i cavi che ho dentro casa, tutte le ciabatte che ho, tutti gli adattatori della corrente che ho e cose varie che possono sempre tornare utili. Quindi il primo obiettivo di oggi, che sono le 4 di pomeriggio, è portare tutte le cose in macchina, guidare verso l'angurriara e uhuh, ci vediamo dopo! Ci siamo! Quella lì, con la macchina che passa davanti, è l'angurriara! Quindi questa è la location di oggi, è l'angurriara, e c'è questa torre, come si chiama? Non lo so. Roccolo? Il Roccolo. Si chiama angurriara Roccolo? E questo è il palco, yuhuu, strafighissimo. Non è una foto in video? Avvisami, disgraziata! Sarò tipo nelle vette di Alberto Angela. Come potete vedere, i musicisti qui sono nel loro habitat naturale. Questo è un palcoscenico. Quindi questo, che roba è? Questo è un pad, quindi vuol dire che è una percussione elettronica, con cui puoi ottenere millemila suoni. E lo stiamo ancora brevettando, cioè nel senso, non ho ancora imparato bene come si usa, però ci sto lavorando. Abbiamo anche comprato uno stand fantasticerrimo per il pad. E niente, sono un match happy. Poi abbiamo, cioè io ho preso questo, che è TCL, elicon voice live play qualcosa, che comunque serve per fare la voce più fighetta. E premendo questo pulsante fa anche le seconde voci. Scorta di plettri! Qui invece abbiamo anche le scalette, che saranno una figata, perché sì, perché verrà tutto bellissimo. Abbiamo anche il leggio, con tanto di lucine sopra. Che sembra un'antennine! Un'antennine! Poi niente, il microfono di Ilenia per le seconde voci, Ilenia nello sfondo, che non si sa cosa fa. Questo è il nostro mega mixer, che è molto figo. Tantissimi canali e tantissimi... Dodici canali. Dodici? Dodici. Stiamo ancora imparando ad usarlo. Quindi le mie casse, insomma, sono anche forti. Raga, abbiamo appena montato tutto quanto, lì è tutto pronto e adesso ci sono arrivati i mega paninozzi con le patatine e la birra. A FEW MOMENTS LATER Musica 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 Musica